Assolto Emilio Coveri, la presidente di Exit Italia, perché il fatto non sussiste. Il caso è quello di Alessandra Giordano, la paternese di 47 anni che si è tolta la vita con la pratica del suicidio assistito nel 2019 in Svizzera, a deciderlo in la guppa della tribunale di Catania, Marina Rizza. Coveri era sotto processo con l'accusa di stigazione al suicidio ed aveva scelto dopo il rinvio a giudizio il rito abbreviato. La procura aveva chiesto per l'uomo la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. Oggi la decisione è che gela innanzitutto i familiari della Giordano che fin da principio hanno sostenuto la fragilità psichica di Alessandra Giordano. La procura ora valuterà se appellare la sentenza dopo il deposito delle motivazioni previste entro i prossimi 90 giorni. Nel procedimento si sono costituite come parti civili la madre, la sorella e i tre fratelli di Alessandra Giordano. La donna è morta il 27 marzo del 2019 in una clinica svizzera. Non era una malata terminale ma era affetta dalla sindrome di Eagle, una patologia che le determinava forti dolori ma curabile oltre ad essere entrata in un profondo stato depressivo proprio a causa dei dolori fisici. Secondo la procura che ha coordinato le indagini di Carabinieri e Polizia Postale, Covery determinava o comunque rafforzava il proposito suicida della donna poi avvenuto come detto con la pratica del suicidio assistito in una clinica di Zurigo. Avrebbe anche indotto la donna che soffriva di depressione e sindrome di Eagle ad iscriversi all'associazione Exit. è tenuto condotte accompagnate da sollecitazioni e argomentazioni in ordine alla legittimità anche etica della scelta del suicidio assistito. La signora, sempre sostenuta invece Covery, era una nostra associata e le abbiamo semplicemente fornito su sua richiesta le informazioni che le servivano per prendere una decisione, una procedura del tutto normale.